Uffetti siamo arrivati veramente all'ultimo capitolo del gioco Perché questo qui sarà il finale e io non vi dico nulla A parte vi spoiler soltanto una piccola cosa che è successa alla fine Ma perché è successo un problema col video Ovvero che è successa alla fine che stavo appunto combattendo il boss che andate a vedere E purtroppo ho fatto tutto lo scontro Il problema che è che quando andate a registrare la parte finale Purtroppo non so perché si è cacciata la registrazione Però il finale sono riuscito a recuperarlo lo stesso Vedrete infatti la commenta del video Quindi tranquillamente se si interrompe a un certo punto lo scontro con il boss Sappiate che non avete perso niente Perché comunque sia il video parte subito della fine Quindi quello là c'è registrato Se sono tanto perso come è che lo ammazzo Ma lo andate a vedere perché fuori di combattere capirete come è che sono andato a ucciderlo Perfetto ragazzi adesso vi lascio il video finalmente ragazzi Con questo ultimo capitolo di Tomb Raider Legend ragazzi Due fetti a buona visione Due fetti Ci siamo con Fintest Posso salutare? Salve ragazzi Siamo qui e siamo pronti a questo episodio di Tomb Raider Beh ragazzi Cioè ragazzi abbiamo un aspetta Ma ti stai rendendo conto? Cioè questa aspetta è un pia schifo ragazzi Sì vabbè Cioè la vita mia non è immun Non è finita però Raga almeno abbiamo Cioè raga che cazzo sta succedendo Cioè raga Ma che cazzo è sta cosa Cioè io non voglio usare nessun'altra arma Solo questa in tutta la mia vita James 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 punta e porti la velocità della luce ho paura che questo non ne lo lascia fare perché deve rompere il cazzo giustamente no se no era troppo bello per essere easy no ah pure è detta dalla strega che sta cazzo e vabbè certo oh mio dito no tu no vado non ricordo vado arrivo da chi sono ma lonna figlio provo a fargli male ragazzi vediamo se ci riesco non ti faccio danno perfetto è la sua trasformazione è diventata la sua trasformazione mi ha salvata io però non so che devo fare per ammazzarlo vabbè mi ha alzato la voice che non ti sento si svenne perché c'è sta spada che fa un casino l'ho preso mi ha fatto male e per lei fa male pure a me però oh 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 calma e va bene stiamo facendo la regolata aia non so che devo fare te lo giuro è una cosa assunta perché devo capire bene come si affronta sta merda aia madonna guarda è fatale lo prime non mi aveva manco preso ve l'ho saltato perché tanto manca solo bug cufetti scusatevi se purtroppo è successo un problema che ho registrato la fine c'è riuscito a battere il boss ma purtroppo che è successo che si è bloccato non so perché il programma e non mi ha registrato niente non mi chiedete perché però ragazzi vedete qua io ho qui alla fine dello scontro perché purtroppo non l'avete potuto vedere per questo motivo qua comunque questo è successo solamente infatti in quel modo l'ho battuta adesso vi lascio al video ragazzi guardate voi stessi io l'ho già visto perché comunque si aveva già registrato sta parte ma la sto registrando cioè se la cacciata ragazzi non ce l'ho potuto rifarla invece adesso vi faccio vedere cosa succede in pratica Don Braille adesso mette sta spada c'è Lara appunto mette sta spada si illuminano le sue statue da quello che ho capito lei qui non so ora cosa c'è scritto nel diario ovviamente perché non si capisce niente ora lei praticamente inserisce la spada del tutto e succede questo no stai indietro sono tu che cosa vedo qualcosa nelle luci cosa chi sei tu mamma sono Lara tua figlia cosa cosa vuoi fare mia figlia non toccare la spada non mi ho mangiato male avanti estrai la spada cosa questo è quello che succede ragazzi guardate mamma mamma ascolta presto esploderà se non tiri fuori la spada sei un idiota hai rovinato tutto tutti questi anni a prendermela con me stessa invece sei stata tu tu l'hai uccisa uccisa no non è morta è andata dove sarei dovuta arrivare io dove saresti potuta arrivare anche tu cerca di spiegarti meglio ti posso assicurare che te ne farò pentire amaramente vi lascio la conversazione fuori la spada te l'avevo detto dove è mia madre Avalon non è un mito non lo capisci non potrei mai capirlo sto sprecando il fiato da questo momento ogni tuo alito di vita è un mio regalo sono d'accordo per questo colpo che gli ha dato perché dopo mi ha fatto battere il boss finale il ragazzo è stato veramente atroce quindi va benissimo sto pugnambaccio ecco ecco è così ragazzi il fiato del gioco e appunto io adesso faccio la madonna di quella madonna non riesco ogni volta faccio cazzate riconoscimenti ecco vi lascio riconoscimenti dello staff gufetti questo è stato Tomb Raider ragazzi mi spiace non aver visto lo scontro alla fine perché volevo farvi le ripetite dalla parte dove lo batto il problema qual è che purtroppo è successo questo cazzo di coso che si è crashato e vi giuro che non c'è stata la registrazione di cosa veramente strana comunque detto questo ragazzi adesso noi ovviamente abbiamo Fido Tomb Raider Legend e continueremo la saga perché è Fido Legend ma ci sarà Anniversary che è il secondo gioco della trilogia ragazzi detto questo noi ovviamente in descrizione ci sono tutti per contattarmi tutti i social anche i vari social appunto sempre per scrivere qualche cosa la pagina Facebook è molto importante che metteremo molti annunci e molte cose che faremo nel canale e se non siete ancora iscritti iscrivetevi noi ovviamente ci vediamo con la continuazione del secondo capitolo o seconda saga di Tomb Raider Anniversary ragazzi ci vediamo vi saluto a tutti ciao